e il cane qua si fa sentire un pochetto no ti prego lo lasciamo assolutamente lo lasciamo totale vai bravo si scazza si nervosisce lui dà fastidio che lui capisce che io sto parlando con qualcuno che non è lui questa cosa lo indispettisce lui è il re della casa per lui io sono la sua moglie capito la sua ragazza la sua compagna ed è molto geloso la donna trofeo esatto io sono la sua donna trofeo siamo tipo con lui nella Sicilia degli anni 30 capito un abbraccio a tutti i siciliani ovviamente però io pensavo stessi per dire lui si è innervosito perché gli ho detto se stai zitto e avrei detto anche io mi sento molto il cane anche a me Pog il podcast è quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita è quando sei immerso nei pensieri e vorresti solo staccare la spina è quel targitto in macchina talvolta infernale che sai già benissimo con chi lo vuoi passare è quel bicchierre di vino che mi tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore io sono Alessandro e io sono Daniele e questo questo è POV il podcast ma ancora ma io ripeti yep allora ok ci siamo come ci siamo? allora devi sapere che le nostre i nostri inizi sono sempre all'anima dell'improvvisazione letteralmente e penso che l'hai capito quindi esatto pensavo che la preparavate in realtà all'intro eh però invece se è improvvisazione siete veramente pazzeschi ci hanno detto in molti che pensavano fosse preparata e invece no è solo così sinergizziamo allora domenica sono le 13 e le 15 cominciamo bene domenica me lo leggi sempre pm e ti confondiamo smettila allora domenica sono le 15 è successa quella cosa che in qualche puntata fa dicevamo se succede wow esatto ed è successa ed è wow voi per chi ci ascolta non riuscite a vederla perché ovviamente ci ascoltate ve lo diciamo noi abbiamo qua il primo ospite di Bob non ti mostri Violetta Rox è con noi ciao io sono veramente onorata emozionata e anche un po' intimorita dal fatto di essere la prima ospite spero di non rovinare tutto come di solito faccio però non puoi saperlo ma abbiamo ingaggiato un robottino che asciuga il sudore di Alessandro qui sotto la sedia altrimenti facciamo effetto scivolata e io ero convinto che quello quello che rovinava tutto pensavo fosse Daniele invece niente allora per chi non conoscesse Violetta Violetta è non so se si dice più una youtuber si può dire content creator sì ma quello che te pare tanto una cosa vale l'altra in realtà cioè non si è ben capito che facciamo noi su youtube esattamente quindi va bene influencer poi ha scritto ben tre fumetti graphic novel insomma un fumetto che penso continuerà e poi l'altro invece che è un'opera a sé stante ma vabbè praticamente ha fatto di tutto aspettiamo anche tipo un film mezzo che diretto da lei a quanto pare vedremo cosa succede e quindi niente abbiamo pensato di chiamare la cara Violetta per parlare proprio di cinema serie tv fumetti quello in cui lei è in realtà specializzata ma la questione oltre a questo cioè quale potrebbe essere il topic Violetta nei suoi video parla tantissimo tantissimo di rappresentazione lgbt di condizione femminile mostruoso femminile tutto quello che concerne la critica lgbt e anche delle donne quindi ho pensato Violetta dobbiamo parlare di questo cioè non c'è scampo perché per noi come sai tematica molto a cuore perché abbiamo dei cugini che hanno questa cosa molto a cuore diciamo e quindi in realtà vorrei iniziare io dicendoti prima di iniziare tutto il discorso cinema serie tv il mezzo è un po' diverso per te perché questo è un podcast e praticamente l'unica cosa che non hai fatto nella tua carriera è un podcast quindi ti volevo chiedere che suz cioè come percepisci questa cosa ma soprattutto come vedi i podcast all'interno proprio del panorama capito un futuro una meteora speriamo di no dici tu no 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 anzi caspita cioè penso che i podcast in questo momento siano assolutamente in ascesa quindi secondo me è quel momento di battere il ferro quando è caldo è assolutamente e mi è balenato in testa ma perché non faccio un podcast perché non ho tempo fondamentalmente mi piacerebbe molto però talmente mi disperdo diciamo disperdo le mie energie in così tanti social contenuti eccetera che adesso il podcast proprio non mi esce sempre dentro però io credo molto in realtà in questa forma di intrattenimento anche perché sono la prima a usufruire tantissimo dei podcast perché non so penso che sia una forma che tiene di intrattenimento che tiene molta compagnia perché magari durano quella mezz'ora quell'ora cioè io sinceramente più so lunghi più mi piacciono perché mi tengo diciamolo comunque è un podcast quindi ti ascoltano a ognuno libera interpretazione assolutamente il fatto di essere chiacchieroni ha un problema perché noi arriviamo a un certo punto che non abbiamo detto niente e è passata mezz'ora ok quindi tutte le volte combattiamo con noi stessi e con la gente che ci dice eh però gli episodi 50 minuti ma che dovete dire bella domanda però succede questo è il punto io appoggerei in pieno veramente anzi secondo me le vostre puntate durano troppo poco vi dirò diciamolo a mia madre che continua a dimmi ma dura più di una stilata di panni stilane di più mamma ma nel senso ma eh dato che ci hai detto che sei una consumatrice di podcast anche per te che sei anche una content creator cos'è che ti attira del podcast che genere più un narrativo un true crime che Alessandro ci sta in fissa guarda io sono anch'io in fissa come Alessandro allora ti devo dire quindi il true crime mi piace molto però a volte c'hai quella cosa che te prende un po' male e quindi mi fa piacere anche magari dei podcast che sono più chiacchiericci più leggeri diciamo che non ti fanno troppo pensare nel senso che non ti fanno magari troppo angosciare come magari può essere un true crime oppure sai ce ne sono molti bellissimi interessanti più documentaristici più di politica eccetera tutto bello però a volte ti va di ascoltare qualcosa di più frizzante di più leggero ti va di ascoltare anche come fate voi che ne so due amici che chiacchierano capito perché hai quasi la sensazione di esserci anche tu in quel momento e quindi di di viverti anche se stai a lavare i piatti per dire però in quel momento puoi sognare di essere a chiacchierare fuori con gli amici e ti distrai secondo me la cosa migliore cioè il momento in cui si inserisce il podcast nella maniera migliore è proprio quando fai qualcos'altro cioè tipo stai guidando e ti senti il tipo che non conosci ma conosci io tipo che ne so passo lo straccio eccoci pronti stendo i panni via cioè quindi è proprio il momento in cui dico ok ho le mani occupate ma la testa sostanzialmente è libera quindi mi ascolto un podcast e questo è in realtà anche quello che consigliamo a chi ascolta POV quei quattro gatti ma non si sa mai nella vita e quindi direi basta cioè entriamo dentro al punto esatto come cosa cioè Dani dimmi tu secondo te con cosa potremmo iniziare questa esamina beh con The Last of Us che diciamo che è ciò che ci ha un attimo rapiti tutti quanti anzi addirittura calcola che io con mio padre ho sempre cercato di vedere serie che fossero in qualche modo simili tra di noi o comunque più simili a lui mio padre ha giocato a Metal Gear Solid era il tipo da Sparatutto io ero il tipo da Crash Bandicoot o da Sonic quindi c'è ero un pochino più e ho guardato The Last of Us con mio padre pensando di guardare un prodotto che facesse un po' che paura e alla terza puntata guardo mio padre e dico nulla di tutto ciò era programmato papi non è un modo non sapevo cioè nell'aria si sentiva quella secondo lui era mezza propaganda gay capito quelle cose così cosa mi stai facendo vedere cioè cosa mi devi insegnare figlio mio capito e quindi nel senso partivamo un attimo da The Last of Us per dire che finalmente nel cinema e nelle serie anche i gay sopravvivono all'apocalisse finalmente eccoci bravo dillo diciamolo perché questa cosa secondo me si dice se ne chiacchiera troppo poco perché molte persone molte alcune insomma vediamo un po' pensano che l'importante di fare una rappresentazione diversificata è metterci in questo caso stiamo parlando della quota queer quindi la quota queer però non basta arrivare fino lì nel senso già se ci arriviamo per carità è qualcosa vabbè se la colliamo però poi se vogliamo fare un passo oltre se vogliamo davvero fare le cose seriamente allora dobbiamo anche guardare oltre e vedere come poi quella quota queer tra virgolette è stata rappresentata finché quota perché in realtà poi sarebbe anche bello non dover soltanto accontentarsi della quota capito ma di avere proprio protagonisti anche protagonisti che entrano nel cinema o nella serialità di genere e ad esempio con The Last of Us succede perché una cosa che mi capita di rilevare spesso è che nel cinema diciamo quello pop quello più mainstream quindi non magari nel cinema un po' più di nicchia così ma soprattutto in quello mainstream molto spesso quando si parla di personaggi queer va bene o sono secondari o quando sono protagonisti comunque vengono un po' relegati a un po' un'unica sfera molto spesso soprattutto quando si parla di uomini ragazzi insomma gay io li vedo molto ghettizzati nel mondo della commedia romantica però per maschietti mettiamola così e quindi vengono declinati spesso lì però quando la queerness la vedremo cioè secondo me quando la queerness comincerà a entrare nel cinema di genere lì dove i personaggi queer saranno interessanti e la loro unica caratteristica non sarà solo essere queer ok allora lì potremmo cominciare a vedere della normalizzazione secondo me qualcuno ci prova non ci riesce tanto qualcuno ci prova ci riesce sicuramente diciamo che si sta smuovendo qualcosa ecco qualcosa in più mettiamola così sicuramente siamo passati da Jay Gillenal che mi muore per una brezza estiva in Brokeback Mountain a Bill voglio ripare un attimo tutta la nostra casa perché dopo tre anni insieme sto un attimo male questo è una coppia gay ma hai capito cioè quello è un bellissimo esempio anche perché per la prima volta forse o comunque per la prima volta in un film in una serie in questo caso scusate che ha l'intento di essere mainstream vediamo raccontata una coppia in un mondo normalizzato e un po' fa riflettere è quasi una mare ironia vedere che questa coppia viva in un mondo normalizzato solo perché in realtà il vero mondo diciamo tutto il resto del mondo lì fuori sta bruciando ok è in un'apocalisse cioè veramente questa è l'unica opzione per cui le coppie queer possano sopravvivere va bene esatto quindi da una parte c'è questo sottotesso di amare ironia questo sottofondo così però dall'altra effettivamente in un contesto così diciamo tragico come quello di The Last of Us la coppia di Bill e Frank è praticamente l'unica che sopravvive veramente e si fa si gode veramente una vita piena e appieno fino all'ultimo quindi è un esempio molto positivo soprattutto messo vicino agli altri esempi di coppie magari di relazioni che vediamo nella serie e per una volta diciamo non sono i personaggi queer a subire un'apocalisse e anche in senso lato ma sono invece gli unici che riescono a coronare un amore autentico è vero a coltivare delle fragoline che momento magico come per dire non siamo solo l'emblema di una coppia ma anche degli unici che scelgono un modo anche molto intelligente di sopravvivere è gustoso no ma poi è gustoso senza fare vero spoiler anche se si capirà da quello che sto per dire ma non voglio fare spoiler anche il finale del terzo episodio secondo me funziona un po' al contrario cioè è una fine tragica ma in realtà nella sua tragicità in realtà tipo l'affermazione di vita cioè secondo me il fatto che loro scelgono di fare quello che fanno è in realtà il modo per autorappresentarsi cioè per avere una convalidazione personale più alta rispetto a cioè il fungo la fine del mondo e io lì cioè fiumi di lacrime fiumi di lacrime veramente poi queste vibes alla Shakespeare capito Ruben e Giulietta però c'è tutto queer via via sì sì sono d'accordo quello che il rovescio della medaglia è come è stata percepita un po' questa cosa perché non tutto il pubblico ha apprezzato intanto il fatto che si è distaccato dal videogioco nel videogioco Bill e Frank hanno praticamente cioè tu vedi la fine del rapporto sì sì è molto percepisci una fine di un rapporto che è esatto in cui addirittura Frank dice a Bill che non l'ha mai sopportato cioè quindi l'amore che rappresentato nella serie nel nel biogioco non esiste proprio o comunque c'è stato forse il pubblico invece ha percepito questa cosa come quasi un'offesa quindi come dicevamo c'è stato un passavanti si sta muovendo qualcosa però d'altra parte c'è una parte del pubblico un po' restia a questa cosa dicendo ma quante sono adesso le serie dove ci sono questi personaggi ma perché sono tutti gay cosa rispondi io non so cosa rispondere posso dirti una cosa su questo questa cosa a parte che mi urta tantissimo quando la sento però allora qui si può rispondere in due modi cioè allora o srotoliamo il GLAD che insomma è una come posso definirla un'associazione diciamo che trovate anche online che si occupa di stabilire di definire diciamo ogni anno quant'è la rappresentazione queer nella serialità soprattutto è molto interessante se vi capita potete farvi un'idea anche proprio in percentuale eccetera e se parliamo delle ultime statistiche comunque stiamo parlando di una differenza tipo 10% rappresentazione 10% rappresentazione queer 10-12% tutto il resto no quindi primo di che stiamo a parlare cioè proprio dati ufficiali non una cosa che mi invento io se la vogliamo buttare in maniera un po' più becera quello che penso io è che fondamentalmente se sei una persona che è abituata che non fa parte della community e che è abituata a mangiare non lo so la pasta sette giorni su sette se il venerdì te danno la pizza fai un attimo oddio ma che succede? ma che stiamo scherzando? capito? di venerdì? follia completa capito? quindi se ovviamente tutte le settimane in un mese sono quattro volte la pizza quindi questa cosa diventa una roba come a dire ma stiamo scherzando? ma qui c'è stata una pizza a settimana ma mi sembra un po' troppo no? capito? quindi secondo me è un po' quella reazione di chi ha il privilegio di essere rappresentato da sempre sempre e comunque di accorgersi che forse esiste anche un resto del mondo un resto dell'universo perché se ci pensiamo raga cioè secondo me alla fine è più strana la rappresentazione che noi consideriamo normalizzata rispetto a diversamente perché cioè se ci pensate alla fine dappertutto adesso sicuramente c'è più diverse reazioni però negli ultimi decenni comunque vedevamo sempre gli stessi personaggi sempre le stesse persone sempre gli stessi attori capito? ed era tutto molto normato da tanti punti di vista non solo dal punto di vista queer no? cioè che non c'era un punto di vista queer praticamente quindi non è più strano un mondo in cui sono tutti quanti bianchi etero e possibilmente maschi perché non lo è il mondo normalmente cioè non è più strano quella che quella rappresentazione sia normalizzata rispetto a la diversificazione che comincia ad esserci cioè dovremmo un po' ribaltare il punto di vista appunto visto che il vostro podcast si chiama così ecco forse perché esatto forse perché esatto è come quelli che dicono è diventato una malattia citando un fungo ormai tutti quanti esplodono no? è che il mondo è così vario che avere la presunzione di volerlo per forza rappresentare in un modo che tutti reputano normale come dici tu è diventato fake quasi e ricordiamo poi che viviamo nel pianeta in cui si diceva che i pokemon rendevano gay figli quindi cioè nel senso cosa pretendi? era uscita una notizia ti giuro mamma c'è una pokeball qui non voglio dirti niente è successo mi dispiace era tipo quegli studi farlocchi che escono sui social diceva proprio che genitori sveglia perché se i vostri figli hanno visto i pokemon quella era sveglia genitori sveglia i pokemon rendono gay i bambini figura sì no no comunque da tanti punti di vista noi adesso appunto ci scherziamo cioè da tanti punti di vista è tragica quello che che si sente a volte sui social sinceramente comunque posso dire almeno c'è nel senso anche se c'è una lotta almeno si smuove qualcosa nel senso che prima c'era la calma piatta era quella minestra là o era così o niente adesso almeno sta succedendo qualcosa quindi anche vedere non so io so che per la puntata a cui vi riferivate di The Last of Us c'è stato un review bombing ad esempio negativo una cosa veramente da bambini di tre anni però ok con i social in mano ecco cioè vedere che comunque si hanno queste reazioni forti che vuol dire che c'è dell'attrito c'è del materiale su cui lavorare c'è qualcosa da smuovere magari sarà dura all'inizio o più avanti sarà dura però quantomeno quando c'è scontro c'è vita c'è movimento invece che la calma piatta che magari c'era fino a un decennio due decenni fa o quando ero ragazzina io che insomma gli anni 90 lo negheremo fino alla morte allora no più che altro noi eravamo interessati a avvolgere la questione anche su un altro punto nel senso ormai sappiamo che i film non li guardiamo più soltanto al cinema cioè ormai molto spesso siamo noi da soli appunto con Luca dato che siamo marchigiani è Luca con Luca du popcorn che se vogliamo fa un po' la cooker girl ci siamo cotti noi a casa prima ma il punto è che le varie piattaforme ormai hanno anche un loro modo specifico di identificare per esempio HBO contro Netflix il modo in cui viene rappresentato l'omosessualità nell'HBO e su Netflix a me viene in mente Euphoria o anche Game of Thrones per alcune cose contro Heartstopper o Sex Education cioè da una parte piango e rivivo il perché a 17 anni il mio fidanzatino non arriva bene con me l'amore fa male fa male tanto e da una bella favola cosa ne pensi tu di questa doppia rappresentazione che le piattaforme ci danno ma sì secondo me poi alla fine si rifà anche un po' all'identità delle piattaforme stesse nel senso che Netflix è una piattaforma che ha dei pro e dei contro perché da una parte magari è un po' un fast food di contenuti perché su Netflix c'è una quantità di prodotti che continuamente va in ricambio eccetera che è difficile stargli dietro e purtroppo quando hai un'altissima quantità a volte la qualità si abbassa però poi hanno quelle chicche che ogni tanto tirano fuori che dici caspita ne vale la pena secondo me Heartstopper con quel prodotto loro hanno fatto un ottimo lavoro perché per la prima volta noi abbiamo una serie che va bene teen ma Netflix ci tiene tanto a quel target lì di pubblico che ci racconta un amore tra due ragazzi tra non mi ricordo come si chiamano adesso loro non si è Charlie grazie a lei mi ha tatuati sul cuore vuole che tirano fuori i volumi se continuate così ah ce l'ho anch'io ovviamente i volumi però per la prima volta noi vediamo una serie così fresca così leggera teen destinata a ragazzi giovanissimi ragazzi ragazzi giovanissimi in cui c'è questa love story che è estremamente romantica romanticizzata e è mi viene da dire safe nel senso che non è la classica storia teen dove c'è un personaggio queer un personaggio gay che a un certo punto deve vivere tutta una serie di drammi tutta una serie di tragedie che per carità non è che quel mondo lì non lo raccontiamo più perché in parte è anche realtà e quindi è giusto in un certo senso denunciarlo diciamo o dare la possibilità alle persone di identificarsi anche in quello però ogni tanto dico è bello anche che il mondo queer si viva una rappresentazione che sia safe che sia una ventata d'aria fresca una boccata d'aria fresca capito che non sia per forza quella cosa oddio mi succede la tragedia oddio mi succede ora arriva il burlo mo finisce così mo mo le botte coi genitori mo capito quindi Heartstopper secondo me su questo è molto interessante ma anche perché poi se parliamo chiaramente anche il io mi capita molto spesso di avere che ne so cuginetti più piccoli che mi parlano un po' di quello che è il loro mondo più piccoli anche scuole medie e anche i coming out e anche poi interrogarsi sul il significato di questa parola al giorno d'oggi avviene anche molto più tranquillamente non deve esserci per forza una famigliarestia è anche bello mostrare lo sviluppo di quello che succede quando ok che poi mi diverte pensare quando io feci i coming out dentro di me pensai ok il primo scuaglio è andato ora rapportarsi con degli uomini chi me lo insegna certo bravo cioè quello che quello che dice è molto interessante chi me lo insegna perché effettivamente al di fuori della community queer quindi che ne so le persone appunto etero si vedono rappresentate in tutte le salse ovunque quindi hanno tanti esempi di come potrebbe essere la loro esperienza di dove orientarsi eccetera di cosa potrebbe succedere di cosa gli è già successo e tutto il resto e invece tutto quello che non è etero nessuno ha dei cioè è difficile avere dei dei riferimenti di sentirsi rappresentati potersi identificare quindi poi alla fine uno deve sempre come dire identificarsi in quello che trova fondamentalmente e non è diciamo appagante se ti devi identificare questo io lo sperimento anche semplicemente banalmente molto più banalmente da ragazza e molto spesso mi è capitato di dovermi e di ritrovarmi identificare magari dei personaggi degli eroi maschili perché era l'unica opzione per poter immaginare di vivere un determinato arco narrativo che a tante categorie è banalmente precluso capito quindi c'è bisogno anche di questo ma a proposito di art stopper quello che vedendo la serie io sono tra le persone merdose che hanno prima visto la serie e poi letto i fumetti sono con te anche io bravo fumante cacca fumante proprio cioè perché noi non lo conoscevamo art stopper finché non abbiamo visto la serie questa cosa è gravissima capito ci sta noi non conoscevamo kit connor prima il mondo praticamente non lo conosceva aveva 12 anni prima di art stopper è anche stato brutto il motivo poi per cui il coming out è portato abbiamo fatto una puntata ascoltate amici io l'ho sentita io l'ho sentita io l'ho sentita il fatto vedendo la serie la prima cosa che ho proprio pensato è ma se io avessi avuto 16 anni e art stop fosse uscita a quel tempo io sarei impazzito per il trasporto emotivo dietro a una serie del genere non tanto per poi il finale che in realtà è anche molto prevedibile cioè la storia è super lineare però c'è un approccio alla materia come dicevate prima che è così diverso e tranquillo che ti fa vivere tutta l'esperienza del primo innamoramento della scoperta del proprio orientamento sessuale in una maniera pazzesca cioè molto diversa rispetto al resto e soprattutto quello che poi mi ha fatto anche molto riflettere che ho visto di recente un video su TikTok di una ragazzina insomma molto giovane e anche molto ironico nel video dove diceva io devo smettere di vedere prodotti targati LGBT perché finisce sempre che piango alla fine del prodotto perché è come se non riuscissi a vivere a pieno quello che ho visto e quindi mi dispiace così tanto che mi commuove questa cosa divento triste alla fine perché non riesco a esatto non riuscirò mai a provare quello che provano loro e ho pensato ma guarda l'ironia della sorte pensa l'80% invece di tutto il resto che subiva lo stesso e lei in realtà metteva proprio questo e dico ragazzi abbiamo proprio preso il centro cioè questo è il punto della conversazione secondo me e Artstopper nella maniera più tranquilla possibile ha aperto questo dialogo quindi Artstopper a vita ragazzi cioè non vedo l'ora che esce la seconda anche se ci vuole secondo me ci vogliono più Artstopper anche declinati magari in età diversa non lo so però ci vogliono più Artstopper poi per carità abbiamo pure euforia e ci sta che ci sta pure euforia assolutamente però è proprio quello il punto la diversificazione capito avere una scelta ecco banalmente solo una scelta guarda mi permetto di condividere con entrambi con entrambi voi qui presenti il fatto che io lo sto notando ad esempio adesso nella musica Sanremo ad esempio adesso che Ariete ha fatto questa canzone dove è una donna che parla di una donna io da ragazzino ho sempre avuto difficoltà perché ad esempio finché Tiziano Ferro non ce l'ha detto a tutti che dedicava a tutte le donne io mi sentivo che dovevo ascoltare canzoni di donne dedicate a uomini per potermi in qualche modo sentire partecipe di Artstopper ha fatto qualcosa che sono contento che la mia generazione magari la nostra generazione ne soffre più rispetto a quella nuova perché non è difficile adesso poter trovare l'amore alle superiori o alle medie cosa che per noi era più reclusa trovo che questi prodotti come Artstopper sanino un po' delle ferite che alcuni di noi si portano dentro nel trovare un referente visivo a delle cose che la vita ci ha impedito figuriamoci poi generazioni molto più avanti a noi che magari non hanno subito non hanno avuto i privilegi nostri mi piace sapere che questi prodotti possono essere una coccola per chi magari gli è stata preclusa quella storia d'amore alle superiori perché aveva paura degli sguardi della gente mi viene da piangere no 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 bello io sono d'accordo cioè guarda mi hai commosso un po' anche a me devo dire è stato un bellissimo discorso motivazionale se qua ci metti sotto una bella musica potente secondo me bam con un applauso finale no scherzi a parte assolutamente sì ci sta anche quello sono d'accordo è più art stopper per tutti sì mi hai stupito di solito dopo i tuoi discorsi ridiamo pur diciamo madonna ha detto veramente questa cosa invece stavolta ha detto veramente questa cosa non lo so mi sento di essere cresciuto un pochino grazie a tutti è bello anche perché nel senso se dovessi scegliere nel mio modo personale di rappresentare l'amore tra art stopper e euforia sicuramente con il mio Marte in cancro siamo su art stopper viva l'amore ma che ne so io su questo non lo so invece perché sai poi la storia bella drammatica pesa io è lì che il mio cuoricino comincia a dire è perché tu lo vedi così Alessandro ma Alessandro è pazzerello e rock and roll quindi in realtà lui ce l'ha un po' di euforia dentro di lui ah ok ok c'hai anche un lato più oscuro più dark più tormentato diciamo sono la quota d'art è un irriducibile tasso rosso Alessandro quindi comunque quello ci teniamo ma infatti a proposito di tasso rosso è stata annunciata una cosa importante a riguardo no perché sappiamo a quanto pare non so se è proprio ufficiale a 100% ma dai che sì l'HBO a quanto pare produrrà una serie tutta dedicata a Harry Potter una stagione per ogni libro hai detto anche Harry Potter ti ricordo che esistono persone come mia madre Diego per 50 Harry Potter mamma Harry Potter il problema dietro a questo è insomma la signora che l'ha pensata questa cosa e la signora non è molto amica di altre signore esatto potremmo metterla così anche perché ne abbiamo spiegato il termine giusto è TERF a livello a livello tecnico e nel senso è interessante anche perché uno c'è HBO di mezzo quindi un bacio a queste tre sigle e tu cosa ne pensi di questo ecco come presagisci questo prodotto in avvenuta ma il fatto è questo è che c'è gente che dice noi boicottiamo Harry Potter c'è un grandissimo movimento online che vuole proprio boicottare tutto il franchise dall'altra c'è una fame di contenuti a tema Harry Potter enorme c'è la domanda penso dopo la pandemia non ha mai raggiunto livelli del genere quindi come facciamo raga cioè qual è il punto bravo infatti questa è una cosa drammatica cioè proprio qui che uno va si incaglia perché qui che uno fa e mo che cosa devo fa cioè perché da una parte io sono spezzata in questo sono sincera sono divisa a metà perché da una parte quel mondo lì mi ha cresciuto l'ho amato tanto amo molto quell'universo eccetera eccetera c'è la mia come si chiama come si chiama quando fa il cappello parlante il cappello parlante cioè capito sono andata lì mi sono fatta sorteggiare su Pottermore capito tutte queste cose risultato serpeverde c'è della commozione non potete vedere con la mano ma non potete vedere vi lascio soli sentivo sentivo ah quindi siamo due serpeverde e un tasso rosso eccoci qui io non l'ho sfigato posso dire però come ci ha dimostrato TikTok di recente le migliori feste le veniamo a fare da voi nel senso i serpeverde comunque da voi vengono ma poi ma infatti c'è vuoi sergli sfigati io non penso proprio vorrei ricordarti di Newt Scamander che personaggio meraviglioso è e invece noi siamo le merde del circondario sempre cioè ci trattano sempre come se fossimo dei maledetti bulli cattivi malvagi ma in questo mondo esiste anche l'umacorno esiste anche Nerus Piton ne parliamo è vero sì comunque gente che ha fatto la merda e poi si arredenta quindi cioè comunque non partiamo benissimo ma tornando all'elefante nella stanza questo è un grande problema perché io ripeto sono spezzata tra amare molto tutto quell'universo lì e il significato che ha avuto e anche soffrire molto delle affermazioni di questa di questa donna diventata Voldemort non si può nominare praticamente no ma magari ci ascolta ci banna che ne sai ci mandai lei ultimamente ha partecipato a un a un podcast tra l'altro che si intitola allora un podcast in inglese è tipo The Witch Trials of JK Rowling grande esattamente che tu dici ma se non capisci un H d'inglese come te lo sei ascoltato me lo sono ascoltato perché la mia collega Giulia che anche lei ha un canale YouTube che si chiama Cosmo Polinard praticamente ha fatto proprio scala uno a uno dei riassunti di ogni puntata dall'inglese però lei in italiano quindi Santa Giulia io me lo sono ascoltato l'amica che ci invitavamo alle superiori esatto grandissima perché mi ha aiutato molto in questo e devo dire che è stato molto interessante ascoltarlo anche perché mi interessava sentire fino a che punto lei poteva arrivare quali erano veramente i meccanismi che le muovono queste idee volevo capire un po' il contesto di queste affermazioni quindi ho approfondito effettivamente comunque il risultato non cambia nel senso che lei è fissa sulle sue idee uno può anche comprendere il contesto può capire anche le motivazioni psicologiche che ci sono dietro al suo atteggiamento secondo me lei proietta moltissimo dei traumi che ha avuto quando è stata più giovane e che non c'entrano assolutamente nulla con la comunità trans ma proprio zero di zero ma lei fa questo cortocircuito in un certo senso quindi una volta che però capisci il contesto comunque è un po' come e tu che sei appassionato di True Crime ma Alessandro lo saprai è un po' come sì va bene sentiamo la storia del serial killer Jeffrey Dahmer però insomma poi non è che stiamo a dire poverino cioè comunque sia adesso lei non sarà una serial killer ma insomma cioè puoi comprendere così il contesto ma non è che poi la vai a giustificare ecco è molto problematica ha veramente spezzato i cuori a milioni di persone è difficile chiedersi che cosa facciamo adesso io non lo so perché non riesco cioè non so voi come affrontate la cosa però io non riesco a separare del tutto l'opera dall'autore sinceramente cioè secondo me ti vai a togliere un layer di lettura se escludi completamente l'autore dall'opera perché molto spesso tu leggi in realtà nel bene e a volte nel male qualcosa di più sull'opera proprio grazie al fatto che tu conosci la vita dell'autore non vuol dire che dobbiamo conoscere la biografia di tutti gli autori però per dire cioè secondo me separarli forse è una cosa difficile da fare almeno per me però al tempo stesso dobbiamo dire che Harry Potter è un universo il Wizarding World è un universo che è diventato un po' nostro forse è vero che nasce da lei però a un certo punto è diventato qualcosa del pubblico dell'ascoltatore dello spettatore del lettore insomma che poi mille versioni non esistono quindi io non so come cioè io da una parte ho la scusa vabbè è una serie tv ne devo parlare per forza perché è il mio lavoro però però per dire io con Hogwarts Legacy ammetto e lo dico qui davanti a tutti io ho acquistato Hogwarts Legacy però ho fatto un patto con la mia anima per cui ho detto va bene io l'acquisto però scelgo di non parlarne cioè non ho fatto storie non l'ho pubblicizzato diciamo è quello che ho sentito di fare così non è una roba risolutiva sinceramente non è una roba poi così eticamente brillante però secondo me è anche una roba molto personale che ognuno poi si deve decidere con se stesso e andare a condannare chi poi sceglie di fruire di quei prodotti non è mai forse la strada migliore perché è meglio continuare a tenere il punto e cioè la problematicità delle affermazioni di lei più che prendersela con magari chi alla fine usufruisce di quelle opere quindi una via di mezzo che si potrebbe fare per esempio nel mio caso è ok mi capiterà sicuramente di parlare ho parlato di animali fantastici di parlare in futuro dei prodotti di Harry Potter posso fare una parentesi ogni volta per ricordare che wow è Harry Potter ma non ci dimentichiamo che c'è anche questo quindi mettere un po' ricordarci un po' di tutte e due le cose insieme io non so voi eticamente come vi posizionate su questo io farò cattivo ma secondo me il primo passo è togliere Twitter punto già quello io già con quello sono tranquillo cioè il primo step però poi ci dicono che siamo un po' un po' cattivelli che vi devo dire io sono d'accordo eh cioè fermate Elon Musk e Twitter subito qualcuno lo sottoscriva fatto di fratellanza col sangue io invece l'avevo un po' come faccio un esempio avere presente quando vi lasciate dopo una relazione lunga e vi lasciate in malo modo e si tende in qualche modo a proiettare questa negatività anche su tutto ciò che è stato bello prima quello che io cerco di fare sempre anche perché io sono nato in una famiglia positivista mia madre è Milzola lo dico sempre e un bacio mamma e io dico mi hanno sempre cercato di educare nel cercare di trarre il lato positivo da ciò che succede perché tanto la merda tanto merda la parola fumeggiante di oggi abbiamo detto un sacco di volte nel senso quella rimane perché ormai è stata detegata però quello che dico io è non intacchiamo qualcosa che ha permesso a tutti quanti di evadere la lettura è bella perché non ha un referente visivo tu parli anche tantissimo di cinema che è qualcosa che ci ancora molto col nostro sguardo a qualcosa che così è la lettura ci permette di creare i nostri alberi nella via che ci stanno descrivendo il colore del legno mogano dell'armario che viene descritto in una casa è vero che è brutto che abbiamo scoperto che tutto ciò proviene da qualcuno di dubbia stima potremmo dire però è anche vero come dici tu è qualcosa che abbiamo fatto nostro anche perché poi ognuno di noi declina Harry Potter come vuole c'è chi lo ricorda per la prima volta che i nonni l'hanno portato al cinema ricordiamoci che quando c'era Harry Potter fino ai 14 non entri c'è stava la FIFA Security fuori quando c'era Harry Potter fino ai 14 non potevi essere un figlio dello sindaco che faceva andrammi figlio no manco lui entra non entra Nagini fa paura mamma mia io mi sono io mi sono letteralmente caccato sotto con Nagini cioè a me la camera dei segreti fece una paura io avevo quello è il basilisco ah sì sì scusate è vero il basilisco non ho fatto aiuto un affet totale no io vi giuro un po' di animali fantastici che ha creato un casino con questi serpenti mamma mia io ero così piccolo che io veramente dopo la camera dei segreti ho vissuto la notte peggiore della mia vita però è nato l'amore però mi sono veramente caccato sotto si dice che poi in serpentese che paura la mamma di Ale l'ha trovata in cucina che ha fatto cosa c'è Ale la parmellata aveva solo fame era un attacco di fame notturna in effetti un Hufflepuff che parla in serpentese un po' è preoccupante dobbiamo dire questo però effettivamente sì voi penso che voi l'avete visto molto prima cioè non molto prima scusate lo avete visto che eravate molto più giovani di me quindi a voi a che età lo avete visto? no quanti anni ci dai ma voi più o meno ci avrete 24 25 anni penso totale io 28 io 27 vabbè siamo tutti e tre più o meno sommati siamo sui 44 sommati tutti e tre si c'è prova a dire il contrario non metta like non condivida smettila quindi vabbè nel senso possiamo dire che Harry Potter va preso con le pinze nel senso prendete ciò che c'è di buono ma magari non ascoltate la voce narrante mamma mia totale anche perché poi ognuno si crea il proprio mondo dal mondo che ci viene dato cioè io ripeto quello che ad esempio Artstopper ai miei tempi era Glee cioè i miei giorni sono passati con Glee non con Artstopper che era anche lì una rappresentazione di una serie che per i tempi era anche molto innovativa e che si svolge come voglio io quando nessuno capisce vai balliamo vai cantiamo io direi ultimo topic della puntata potrebbe essere proprio Ryan Murphy perché Glee e Ryan Murphy hanno aperto praticamente un universo parallelo riguardo la rappresentazione queer perché Ryan Murphy ci sforna una roba come due tre quattro serie all'anno e c'è sempre un po' un modo di rappresentare la queerness e riguardo Ryan Murphy vorrei un'altra notizia dell'ultimo minuto è stata annunciata parte del cast della dodicesima stagione di American Horror Story e a quanto pare c'è Kim Kardashian nel cast ma cosa stai dicendo giuro davvero Kim Kardashian sono le principali non si sa se le principali ma sono state annunciate c'è una bisca clandestina che si occupa anche di quelle dei polli che dice che sarà Emma Roberts a dare il primo schiaffo questa volta che non c'è Emma fermati beh solo Ryan Murphy poteva penso creare questa cosa questo connubio incredibile veramente soltanto lui vabbè lui ha fatto recitare anche è stato uno dei primi forse che ha fatto recitare Lady Gaga nella sua serie quindi ci sta non mi aspettavo niente di meno da Ryan Murphy che non ha chiamato Kim Kardashian ha rialzato l'articella lo rispettiamo sì lo apprezziamo non lo so vedremo però nel senso intanto ci proviamo qualcuno ci deve provare ecco è un po' come Ospet che fa recitare tipo Arca cioè che ha fatto recitare questi esperimenti capito uno fa quello che può e adoriamo tutto e quindi niente raga io direi che ci siamo allungati anche un po' tanto però è normale perché siamo tra amici nel senso cose su cui riflettere ce ne abbiamo nel senso l'evoluzione di quella che era la presentazione queer lo schierarci o meno nei confronti de JK scherzetto JK non si nomina e soprattutto quanto in realtà ogni piattaforma abbia anche un suo modo di rappresentare l'omosessualità e che bello direi perché che bello perché è vario adesso abbiamo un ventaglio e tutti noi abbiamo modo di rappresentarci chissà quanto evolverà questa cosa e possiamo dire abbiamo anche cioè io un augurio ce l'avrei cioè anche smettere di dire questa è una serie LGBT cioè questa è una serie che rappresenti X perché è così entrato nel nel contesto generale del mainstream che non c'è più bisogno dell'etichetta perché anche Wikipedia etichetta le serie come prodotto LGBT ma in che senso cioè no no è assolutamente ragione uno alla fine lo dice quasi per comodità per far subito capire invece si potrebbe arrivare a un punto in cui è così normalizzato perché è una relazione come tante quella che viene raccontata e che è al di fuori dalle relazioni etero che banalmente si parla di una comedia romantica di un horror uno sci-fi poi che ci siano quegli elementi là semplicemente fa parte della struttura della storia quindi non è qualcosa che li etichetta come genere ma fa parte dell'interno del racconto diciamo e basta come capita con le coppie eccetera etero come dicevo sempre alle superiori quando per ricordarsi di me dicevano quello gay no sono anche quello logorroico ragazzi cambiate il modo di descrivermi per favore nessuno si è stupito al momento ma allora Violetta io ti ringrazio anche a nome di Daniele che non ti vuole ringraziare ma ti ringrazio per lui ovviamente ricordiamo a tutti che lasceremo i canali di Violetta sotto in descrizione per chi non la conosceva già sarei veramente delle persone orribili sì ma no veramente quindi quattro gatti quindi niente grazie Violetta di nuovo perché da niente è nata una bella collaborazione ti aspettiamo magari dal vivo perché adesso siamo un po' lontani ma manco tanto ci siamo detti prima Ale ha questo brutto vizio di ama dire le vie di casa più volte abbiamo dovuto editare dove Alessandro sarà il primo vittorio appena ci avrà una sua carta di credito eccolo non so più come controllare dove metto i miei dati subito Edna Mood degli incredibili popo style ci sentiamo magari alla prossima ci vediamo dal vivo a una fiera chi può saperlo qua cade tutto sto facendo cadere il treppiedi spero che tu sia stata bene con noi molto molto anzi scusate se ho parlato troppo perché Daniele sarà logorico ma io forse sono peggio di lui quindi forse lo batto è il bello dell'essere una bilancia il potere del trio coincide con il mio quindi tu sei page sappilo no oddio magari la tua preferita però io non vorrei essere page no non commenterò quindi noi ci sentiamo domenica prossima con i nostri cari ascoltatori sempre alle 15 dove Dani? su Spotify Apple Podcast e Amazon Music yes un bacio a tutti quanti qui con me Ale e Violetta ciao ciao a tutti